Nadia Ferraguto, buonasera. Ciao, ciao Elisabetta. Tu sei l'organizzatrice del Viale degli Artisti. Sì. Hai avuto difficoltà a organizzare? No, non ho avuto nessun tipo di difficoltà, visto che comunque Augusta accoglie tantissimi artisti, sia a livello di pittura che di scultura, quindi diciamo che è stata abbastanza facile raggrupparli in questo evento. Tu sei un'artista? Io non mi definirei totalmente un'artista, però devo dire che mi diletto nella pittura o comunque altri settori artistici, ma non mi definisco tale. Non ti piace questo nome? No, penso che ci sia gente molto più brava di me, quindi siccome credo nella crescita giusto, per adesso preferisco non definirmi tale, sì. Per quanti giorni esporrete? Allora, noi esporremo per tre giorni, quindi ieri è stato il primo giorno, fino a domani sera, che sarà l'ultima serata di esposizione. So che avete suscitato tanto interesse, ci sono degli artisti che si vogliono unire? Sì, esattamente, diciamo che ieri è stato veramente un boom, insomma la gente è stata abbastanza interessata riguardo il settore artistico. Il Biale è stato molto visitato? Sì, sì, moltissimo, e quindi questa cosa ha suscitato anche interesse in altri artisti, che domani sera parteciperanno all'ultima serata. Quindi avrete un'aggiunta domani sera? Sì, probabilmente sì, di tre persone più io. Anche tu? Sì. Allora, un artista a 360 gradi, dai. Diciamo che mi butto domani sera, ultima serata, facciamo questa cosa un po' particolare. Allora, buon shortini. Ti ringrazio tanto. Ciao, a presto. Ciao. Ciao. Grazie.